Hi guys e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati finalmente con un video vlog E da tanto tempo che non ne facevo uno Uno di quelli intendo così io, voi Così messi in questo modo Perché gli ultimi sono stati o challenge Oppure video tipo quello di Roma Allora, finalmente oggi iniziano ufficialmente le vacanze di Pasqua Ultimo giorno di scuola, ormai questo Probabilmente, cioè l'avete già finito adesso quando vedete questo video E adesso finalmente comincia una bellissima settimana di relax più o meno Perché poi siamo nel mese di maggio E cominciano ovviamente tutti i problemi, tutte le verifiche e cose Oggi mi vedete un po' forse qua più lungo o più scuro Perché vabbè c'è la luce del sole E siccome non sono abituato di solito faccio sempre con la sera Registro sempre quindi riesco a equiparare un po' tutta la luce sul colto Quindi adesso mi vedete un po' scuro è chiaro Oggi sono caduto da tanto tempo non cadevo Mi sono mezzo ammazzato Mi sono fatto un taglio qui Mi sono distrutto il ginocchio qui Non so se vedete, ma che bello E poi vabbè un po' un graffietto qui Però niente di che, niente di Tutto colpa delle mie scarpe Che hanno tipo la suola tutta consumata E' tutta liscia davanti quindi scivolando So finito giù Però vabbè dai so cose che succedono Comunque ho deciso di fare questo video vlog Perché avevo delle nuove notizie da darvi Prima cosa, settimana scorsa non è uscito nessun video lo so Perché in realtà io avevo registrato un video di FIFA Che però non mi ha registrato quindi Deve esserci stato qualche problema Non so bene Devo lavorarci un po' a capire Se riesco ve lo faccio uscire la settimana prossima Se no avete un altro video Penso Minecraft se non riesce quello Inoltre volevo proporvi anche una cosa Che non so se inizierà a farla o no Ditemi anche un po' voi cosa ne pensate Praticamente avevo pensato In Call of Duty Di fare una cosa Che penso che non abbia mai fatto nessuno Almeno per quanto ne so io Ovvero sapete tutti che c'è la modalità campagna no? Io avevo pensato di portarvi la modalità Cioè fare video sulla storia no? Tipo come le serie che fanno per esempio Che ha fatto Stepney no? Quelle che hanno comunque una storia no? Avete capito un po' no? E provare a farvi una cosa del genere Il problema è che può darsi che ci vuole video più lunghi Rispetto a quelli che sto facendo E che magari vi annoiano Quindi io preferisco iniziarla Solo se Comunque so che voi potete Comunque apprezzare Perché altrimenti se poi Non se lo guarda nessuno Allora tanto vale che non lo faccia Nel caso che vi dovesse interessare Comunque tra qualche mese Dovresti comunque vederla sul canale Altra novità E' che pensavo di portare qualche video Un po' diverso da tutti quelli che avete visto finora Qualcosa di molto particolare Per diciamo Allargare un po' il canale in un modo diverso Perché Comunque Adesso sta andando benissimo Comunque piano piano sto guadagnando sempre più iscritti Ovviamente siamo ancora in pochi Però già col passaparola vedo che si diffonde un po' Ovviamente dovrei cominciare a usare di più Soprattutto i social Per diffondere la notizia Non lo faccio così mai Anche perché Di solito no? Voi vedete gli altri youtuber Mettono un video Ti postano una foto In cui ti dicono Cioè è uscito il nuovo video Ovviamente io non ho tante foto Cioè tutte queste foto da mettere E fare così al momento Vengono sempre orridi Cioè è questo che spesso Cioè che non metto mai niente E dovrei però Cominciare a farlo Anche per cercare di diffondere poi la notizia Inoltre Questi video Che vorrei fare Riguardano la musica no? Dovreste sapere Io suono il pianoforte Perciò Avevo pensato Di magari qualche volta Fare un video In cui suono un pezzo Che so bene Che mi piace E' bello anche ascoltare E di caricarlo In modo così Da poter anche Raggiungere un pubblico diverso Che magari poi Cioè vedendolo Cioè poi magari Da un'occhiata al mio canale Vede anche gli altri video E si iscrive per dire Quindi sarebbe Ok scusate ragazzi Questo brusco cambio Di cosa Ma Si è appena riempita La Vedete Full Si è appena riempita La memoria Perciò adesso Per non stare a Mettersi un computer A scaricare tutto Continuerò su questo Spero che non vi dispiaccia Dopotutto Non è che sia una cattiva qualità E quindi vi sto dicendo Che magari Potrete vedere Questi video Qui sul canale Comunque saranno molto veloci Io spero che anche voi Possiate apprezzare E continuare a seguire Detto questo Il video finisce qui Spero che questo Video vlog Un po' in vecchio stile Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel Like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E se non l'avete fatto Perché non avete un account Createvelo anche Faso Cioè createvi un account a caso E iscrivetevi al canale Importantissimo Perché Che è uno Rimanete aggiornati Comunque sui video Perché voi sapete Che escono il mercoledì Ma ogni tanto Lo faccio uscire Anche la domenica Qualche video bonus Quando magari ce l'ho Registrato E ho tempo Perciò Visto che non metto Quali mai Su Instagram In cui avviso E vi prometto Che inizierò a farlo Voi iscrivetevi al canale Così saprete sempre Quando arrivano Quindi mettete anche la notifica Buone vacanze di Pasqua Ecco la fase chiude Ciao ciao Ciao